Turbato dalla notizia ma sereno di fronte alla giustizia. Dopo il rinvio a giudizio da parte del Tribunale di Taranto per concussione aggravata in concorso, l'ex governatore pugliese Nichi Vendola si mostra pronto a dimostrare la sua estraneità ai fatti, ribadendo la sua attività politica in difesa dell'ambiente e di Taranto. Un rinvio a giudizio non è una condanna, è soltanto la porta d'ingresso dentro al processo. Ovviamente mi brucia molto la ferita che subisco perché io ho rappresentato l'unica classe dirigente che ha provato a sfidare il gigante della siderurgia, rappresento la politica che non è stata sul libro paga dei Riva, molti non possono dire la stessa cosa, rappresento l'esperienza di governo che ha prodotto le leggi ambientali più innovative d'avanguardia d'Italia. Vado a questo processo con la serena coscienza di chi sa di aver sempre operato nel rispetto della legge e per il bene della propria comunità. Una bomba a orologeria, quella della procura Tarantina, che ha rinviato a giudizio anche l'ex assessore alla sanità Donato Pentassuglia, rieletto consigliere regionale, accusato di favoreggiamento personale nei confronti dell'ex responsabile della comunicazione di Ilva, Girolamo Archinà. Sulla questione sono intervenuti anche gli otto consiglieri 5 Stelle in Regione Puglia, sottolineando come fosse già curiosa la scelta del capogruppo PD di qualche giorno fa, con i candidati scelti dal partito di Emiliano, Fabiano Amati, già condannato per tentato abuso d'ufficio, e quello che alla fine è diventato l'attuale capogruppo, il consigliere Michele Mazzarano, rinviato a giudizio per il lecito finanziamento ai partiti e millantato credito. Questo è il PD del magistrato Emiliano, sottolineano i consiglieri del Movimento 5 Stelle, che rincarano la dose. Già in campagna elettorale diversi candidati nelle sue liste si erano distinti per presunte compravendite di voti e affini. In qualità di candidato alla presidenza, ex segretario del partito, ma soprattutto in qualità di ex magistrato antimafia, avrebbe dovuto impedire la candidatura dei consiglieri indagati, condannati e rinviati a giudizio tra le sue liste.